Intervenuto all'ultima tappa di energia d'impresa, Andrea Zara, di regola, porta nel dibattito sull'efficienza energetica l'esperienza maturata dalla sua azienda proprio in questo settore. Ci sono molte tecnologie che possono essere sfruttate a diverso livello di intensità di investimento. Quella su cui noi lavoriamo e che vediamo che ha i ritorni più interessanti è l'elettronica applicata al monitoraggio e all'automazione dei consumi. Molto spesso l'energia c'è, è abbondante, ma è una risorsa costosa ed è mal regolata. Noi scopriamo che con l'utilizzo dell'elettronica e con sistemi di regolazione, appunto, di automazione, è possibile ottenere risparmi consistenti. Quindi forse un consiglio che mi sento di dare è, prima di pianificare investimenti consistenti, regolate l'energia che già avete in casa, regolate al meglio gli impianti che già avete in casa. Si può fare, le soluzioni ci sono, sono disponibili e di solito costano molto meno di una ristrutturazione complessiva d'impianto che magari porta grandi risparmi ma ritorni economici molto diluiti nel tempo. Secondo Zara la consapevolezza da parte delle aziende è matura per un deciso passo in avanti, purché non manchi il supporto di un contesto normativo adeguato e i giusti incentivi. Gli incentivi sono importanti ed è giusto che aiutino, già oggi abbiamo uno strumento importante, il principale nel campo dell'efficienza che è quello dei certificati bianchi, che è uno strumento che ha punti di forza e punti di debolezza, forse uno dei punti di debolezza che è meno accessibile da parte dei piccoli. Quindi forse uno sforzo che andrebbe fatto su fronte degli incentivi è identificare strumenti che siano aggredibili anche dalle piccole e medie imprese, per il tessuto produttivo italiano sono fondamentali. Devo dire che però un compito, un ruolo importante è svolto in questo momento anche dalla normativa che spinge e obbliga, non tutti, soprattutto i più grandi, allo sviluppo delle diagnosi energetiche, perché questo aumenta di molto la consapevolezza e fa uscire le opportunità per l'ulteriore sviluppo dell'efficienza energetica nel nostro contesto produttivo. Grazie.